Come il Falstaff di Verdi e la Turandot di Puccini, il Parsifal appartiene alle ultime parole di un maestro che ha superato la sua età. Con il Parsifal Wagner cercava qualcosa di universale che elevasse la pratica dell'arte al rango di festa. Questo si è trasformato in opera unica che, con il suo tema mitico-religioso e il suo contenuto spirituale e musicale, affascina ancora l'ascoltatore. Poiché importanti passaggi del tram si svolgono durante la Settima Santa, i giorni di Pasqua sono il momento culminante del Parsifal. Con questo video vorrei presentarvi l'opera e, oltre agli aspetti musicali, vorrei soffermarmi sull'interpretazione di quest'opera chiave di Wagner. Se volete conoscere la trama di quest'opera, cliccate sul link in alto a destra. L'interpretazione di quest'opera è molto interessante e complessa. Come sempre, Wagner è stato attento a non lasciare un'interpretazione ufficiale dell'opera. Tuttavia, ha dato l'indicazione che la ricerca della redenzione costituisce il tema centrale. Non sorprende, quindi, che quasi tutti i personaggi che depopolano il Parsifal vogliono essere redenti in qualche modo. Amfortas dal suo dolore fisico, Kundri dal suo tormento mentale, Gurnemans e i cavalieri dall'abbandono involontario del rituale. Il loro redentore è Parsifal. Quando Kundri lo bacia per ringraziarlo, il folle Parsifal viene finalmente riscattato da colui che sa. Wagner parlò addirittura di redenzioni del redentore, nel caso di quest'ultimo. Il tema delle redenzioni fu onnipresente in tutta la vita artistica di Wagner fino a diventare la parola chiave, più grafica, più importante. Mentre nelle opere più giovani la morte dell'amore portava alla redenzione, nel Parsifal, la sua opera della vecchiaia, la redenzione stessa avveniva attraverso la castità. O rinuncia, un'altra dalle parole chiave di Wagner. Nel Parsifal troviamo il simbolo del femminile nella coppa del Graal e del maschile nella lancia. I cavalieri del Graal sono mantenuti in vita dal rituale. Possono sperimentare la vitalità del rituale del Graal solo con la lancia e la coppa unita. Ma la castità è imposta a loro stessi. Il cavaliere del Graal Amfortas si indebolì da giovane e divenne un poco casto con Kundri. Dovette spiare la sua colpa con gravi sofferenze. Il cavaliere del Graal originale Klingsor volle sfuggire a questa dura prova e si evirò. Tale castità tuttavia non era appropriata. Poiché doveva venire come rinuncia dall'interno. Di conseguenza Klingsor fu scacciato e si trasformò in un vendicatore. Il modo in cui Wagner introdusse i temi della redenzione e della rinuncia è affascinante e descrive Wagner come un grande pensatore e uomo di teatro. La prima idea intelligente di Wagner fu quella di dichiarare il Parsifal un festival di consacrazione scenica, elevando così l'opera a qualcosa di sacralmente religioso. La sua Bayreuth, appena creata, doveva così diventare un luogo di pellegrinaggio. Infatti, in un teatro convenzionale dipendente dal piacere, il Bühnenweifestspiel si sarebbe trovato, secondo lui, nel peggior posto possibile. Wagner attinse a due religioni, il cristianismo e il buddismo, come base spirituale. Era Wagner religioso? Piuttosto no. Rifiutava la chiesa come istituzione, ma era un uomo spirituale e recettivo nei confronti delle metafisiche. La motivazione delle redenzioni di Wagner era quella di criticare la fissazione del ego dell'epoca borghese e vedeva il suo ruolo di artista come quello di un rivoluzionario. Ciò che lo affascinava del cristianismo era Gesù sulla croce e come rivoluzionario sociale riscattava il popolo con la sua morte. Così, Wagner adottò vari elementi del cristianismo in quest'opera, come il battesimo di Condri, che viene così lavata dalla sua antica colpa. O anche il rito del Graal, il cui culmine è l'unione con il sangue e il corpo di Cristo. All'età di 41 anni, Wagner si imbatte nell'opera di Schopenhauer e la lettura di Il mondo come volontà e immaginazione diventa un'esperienza di risveglio. L'opera fu influenzata in modo decisivo della filosofia buddista. Wagner era affascinato dalla spiritualità di matrice indiane che si distingueva così nettamente dal materialismo occidentale. Fu un'idea brillante di Wagner quella di inserire Condri nella trama del Parsifal. Condri divenne il personaggio più buddista di tutti quelli del Parsifal. Come Paracriti, Condri si ridime dalla sua colpa attraverso una casta rinuncia e viene accettata nella comunità. Un venerdì santo Parsifal torna a Montsalvat dopo anni di peregrinazioni. Wagner affermò anche che l'idea originale di quest'opera gli venne in un venerdì santo. Nella seconda parte vorrei parlare della musica e dei passaggi particolarmente belli. Wagner utilizza in buon numero di leitmotif nel Parsifal. Chi è interessato può trovare un'introduzione a circa una dozzina dei leitmotif più importanti del Parsifal nel video in alto a destra. È interessante notare che il Parsifal è il ruolo di titolo più breve di Wagner e che le parti vocali del ruolo tenorile del Parsifal coprono a malapena 20 minuti, nonostante la notevole lunghezza dell'opera. Di conseguenza, Gurnemansi e Condri acquistano importanza come ruoli importanti. Con il Parsifal, Wagner volle creare un nuovo suono orchestrale per il nuovo teatro di Bayreuth. Lo rese meno pesante rispetto al ring e, cosa molto importante, l'orchestra divenne la protagonista principale. Per questo motivo nel seguito troverete soprattutto molti riferimenti a brani orchestrali. Il preludio presenta tre importanti leitmotif. Nella prima parte del preludio l'ascoltatore entra nel mondo musicale di Montsalvat, la cui musica è in gran parte diattonica. Con il suono di un tremolo, la musica diventa più cromatica ed è dedicata al tema della sofferenza. I link ai video di YouTube delle scene affrontate si trovano nella descrizione del video qui sotto. La grande narrazione di Gurnemansi ci svela altri tre motivi musicali centrali e descrive la storia di Amfortas e Tittorel. Mentre Gurnemansi e Parsifal si dirigono verso il castello, si sente la magnifica musica di trasformazione, introdotta dal motivo della campana. Wagner voleva un suono di campana speciale, due ottave più basso della campana della cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Wagner fece costruire dal costruttore dei pianoforti di Bayreuth uno strumento insolito che produceva il suono particolare desiderato da Wagner. L'ingresso dei cavalieri è accompagnato da una musica lunga e travolgente. La musica corale è cantata da gruppi corali invisibili e in movimento, ma anche da gruppi corali invisibili che risuonano dall'alto. Questa scena è ancora una volta guidata dal motivo della campana, il cui motivo puntato e stridente suggerisce l'ingresso dei cavalieri. Nella prima parte sentiamo il coro dei cavalieri che crea un effetto immediato con forti crescendi e decrescendi. Con il coro della media altezza, nella seconda parte, si verifica un cambiamento di atmosfera. Con il coro dei ragazzi della messima altezza e della cupola, la musica si sposta verso il lettereo nella terza parte. Gli inverni a Boyreuth erano molto freddi e nebbiosi e Wagner li evitava con regolari viaggi al sud, dove occasionalmente trovava ispirazione per la composizione del Parsifal. Una visita a Rapallo nel giardino di Palazzo Ruffolo gli ispirò il giardino di Klingsor. Vedendolo, essultò «Ho trovato il giardino magico di Klingsor». E a Siena, la cattedrale divenna il modello per la cupola di Mansalvat. Wagner stesso definì la musica delle fanciulle fiore un profumo musicale e la progettò con motivi musicali indipendenti. Il preludio del terzo atto si apre con un motivo alla cui atmosfere desolate descrive il declino della Lega dei Cavalieri. L'ouverture è suonata solo da archi nello stile di un quartetto d'archi. La musica cromatica rimane in piano e ricorda immediatamente il terzo atto del Tristano. Wagner chiamò questa famosa scena che segue il battesimo di Kundri «Ma la magia del venerdì santo», che, come il Waldweben, è un interludio orchestrale è ispirato alla pastorale di Beethoven. È caratterizzato dal cosiddetto Blumenau motif suonato da Loboe che descrive la grazia dei colori, delle forme e dei profumi della foresta e del prato. Nel 1950 Maria Callas cantò per l'ultima volta un ruolo di Wagner. Si svolse a Roma, cantato in italiano. L'effetto è sorprendente. Non è solo la voce della Callas a suonare diversa, ma la lingua italiana, con le sue vocali e consonanti fluide e più morbide, conferisce alla scena una nota sognante. Wagner compose il Parsifal nell'ultima fase della sua vita, consapevole che sarebbe stata la sua ultima opera. Da molti anni soffriva di gravi problemi cardiaci. Gli attacchi aumentavano e le sue condizioni di salute erano sempre più precarie. Inoltre, i problemi finanziari lo opprimevano. L'onere finanziario del Festspielhaus costruito nel 1876 era enorme e, per la preoccupazione dell'opera della sua vita, gli aveva imposto un pesanto carico di lavoro negli anni 70. Con la sua prima nel 1882, il Parsifal come il Tristano produsse un enorme impatto sul mondo musicale e tra i suoi più ardenti ammiratori vi furono Claude Debussy, Gustav Mahler, Richard Strauss e Giacomo Puccini. Il Parsifal di Wagner è considerato un'opera unica, forse la più spirituale dell'intera letteratura operistica.